buonasera a tutte e a tutti grazie per essere qui stasera con noi su un tema insomma importante per un progetto che la fondazione circolo dei lettori sta seguendo con il carcere delle vallette e con le biblioteche civiche torinesi che ringraziamo molto per il lavoro che fa che fanno in carcere tutti i giorni la fondazione circolo dei lettori da un po a questo progetto per cui oltre a rifornire la biblioteca di titoli e di novità per rimpolpare un po i libri che si mettono a disposizione dei detenuti portiamo una parte della nostra programmazione o organizziamo delle cose specifiche e delle attività specifiche da fare lì con loro con i detenuti grazie ad alcuni ospiti e in questo caso stasera raccontiamo di questa esperienza che è anche un come dire un'evoluzione e un prodotto fisico a cui hanno partecipato le persone detenute in carcere nel maschile abbiamo qui con noi francesco kento carlo che ringrazio tantissimo immagino conosciate tutti che ringrazio non solo per essere qui oggi ma soprattutto per il lavoro appunto che ha fatto con i detenuti che è stato credo davvero un'esperienza molto importante che stasera ci racconterà e igor boni presidente dei radicali che ringrazio moltissimo che conosce il tema delle carceri molto bene quindi abbiamo pensato che potesse essere interessante un confronto ne approfittiamo stasera per parlare anche del libro che kento ha scritto su tutti il lavoro che fa nelle carceri in particolare nelle carceri minorili in questo caso pubblicato da minimum fax ci tengo molto a dire che ci tenevamo a fare questo incontro fuori dal carcere raccontare fuori dal carcere in questo contesto come il circolo dei lettori dove normalmente si parla di cultura di letteratura di ma raramente si riesce a parlare di temi di questo tipo portare il carcere fuori dal carcere e quindi perché è qualcosa di cui non si parla se ne parla si conosce molto poco e si tende spesso a dimenticare a lasciare in un angolo come se fosse qualcosa che non ci riguarda perché noi lì dentro non ci stiamo e invece in realtà è qualcosa di cui dovremmo davvero occuparci quindi vi ringrazio e lascio la parola a kento a francesco grazie grazie mille è stata lo so che si dice ogni ogni volta però accidente è stata un'esperienza straordinaria fare questo questo percorso insieme al al circolo insieme alla alla biblioteca all'interno delle delle vallette tra un po vedremo il videoclip della canzone fate attenzione in particolare alla parte che viene girata e ve ne accorgerete proprio all'interno della biblioteca perché in generale le biblioteche all'interno delle carceri in particolare la biblioteca alle vallette ha un significato straordinario si capisce proprio dal dall'impatto visivo dentro una una struttura per ovvie ragioni non allegra come un carcere non stimolante come per la maggior parte dei casi è un carcere è uno spazio fisico e mentale di una straordinaria importanza e se qualcuno di voi avesse dei dubbi sul perché vanno supportate le biblioteche il loro ruolo sicuramente è un uno degli esempi più belli che mi che mi vengono in mente più e più importanti e piccolo aneddoto che non so se posso raccontare però lo racconto lo racconto lo stesso a un certo punto marco il responsabile della biblioteca mi fa accidenti è sparito un cd dei genesis erano dei genesis sì un cofanetto perché il cofanetto dei genesis e non sapeva se aveva la stessa espressione che ha in questo momento scusa ti tiro in mezzo subito aveva la stessa espressione che in questo momento quindi era un po incazzato perché comunque gli era sparito un cofanetto un po era contento perché qualcuno in cella si stava ascoltando i genesis e questa è un è una cosa straordinariamente significativa non la potevo raccontare questa cosa vabbè facciamo così tanto siamo siamo in diretta su tutti i social benissimo così scherzi a parte un altro dei punti molto belli molto particolari e molto interessanti di questo video sono ovviamente i volti dei ragazzi detenuti io come appunto come come sapete lavoro per la maggior parte dei casi con i ragazzi detenuti nelle carceri minorili che per ovvie ragioni non possono essere inquadrati in volto quindi riuscire a fare un videoclip dove si vede la faccia dove si vede l'espressione dei ragazzi da una carica di di emozione di coinvolgimento straordinario francamente sono ancora più contento che lo vediamo su un grande schermo terza e ultima cosa che vi dico prima di vedere il videoclip c'era un ragazzo che stava registrando che proprio quello che registra che canta il ritornello della canzone lo vedrete ed era in cabina perché abbiamo creato proprio una una cabina di di registrazione con l'aiuto di di marco di martina e stava registrando questo ragazzo a un certo punto arriva l'agente di polizia penitenziaria bussa e gli fa o vedi che ti è arrivata la scarcerazione e questo ragazzo si gira dal microfono un po' seccato e gli fa sì 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 aspetta un attimo aspetta aspetta un attimo sì ti ha detto aspetta un attimo e infatti la scena che vedrete del ragazzo che esce e si abbraccia con la mamma per fortuna non è una scena che abbiamo che abbiamo ricreato quella non è finzione quella è realtà per adesso mi direi direi che mi fermo qua perché sennò spoiler troppo grazie il volume lo vogliamo bello alto no io le ore dentro le celle non passano aspettiamo il fine settimana per vedere i nostri genitori infelici che arrivano a casa e piangono vedendo il letto vuoto questa è la realtà ragazzi c'era un ragazzo nel quartiere era il più povero rimasto senza casa dormiva in un ricovero si guardava intorno se passava dentro un vicolo senza nessuno al mondo si sentiva in pericolo con la fama addosso senza un amico vero procurarsi soldi si fa l'unico pensiero vedeva gente in strada stare dietro strani traffici muovendo buste e pacchi fare guadagni facili entrarci è stato semplice un giorno ha cominciato così spaccio di droga è stato il suo primo reato questo non risolve ma moltiplica il problema ora in macchina in manette luci blu della sirena è la vita della strada c'è chi non può farne senza però questa vita amara anzi fa rima con violenza così tanti ragazzi che non guardano le stelle perché soffrono rinchiusi stanno al freddo nelle celle sentiamo freddo attraverso queste ossa non ci conoscono ma abbiamo la pelle tosta e ste sbarre non ci chiudono la mente sta piovendo in queste strade già da sempre la speranza muore dove il sogno non può nascere così questo ragazzo si ritrova chiuso in carcere diceva un vecchio detto che il rispetto è misurato soltanto chi lo porta può vederselo portato apprende questa regola capisce la realtà adesso è uno tra tanti impara l'umiltà ora trova il coraggio di affrontare certi errori riallaccia anche il rapporto perso con i genitori frequenta la palestra sudando sotto i pesi coi giorni che si fanno settimane dopo mesi trova la sua forma di espressione nella musica che ti capisce sempre eppure non ti giudica dopo tanti anni prende un libro tra le mani con la forza della mente studia e supera esami oggi si aprono i cancelli dallo sguardo più sicuro fine pena scarcerato pronto a prendersi il futuro sentiamo freddo attraverso queste ossa non ci conoscono ma abbiamo la pelle tosta e se sbarre non ci chiudono la mente sta piovendo in queste strade già da sempre sentiamo freddo attraverso queste ossa non ci conoscono ma abbiamo la pelle tosta e se sbarre non ci chiudono la mente sta piovendo in queste strade già da sempre quindi come io parlo volevo soltanto dire una cosa perché io l'ho visto per la prima volta in carcere proprio in biblioteca con con le mie colleghe con i detenuti e quello che dicevi tu di vedere il loro volto è la cosa che mi ha colpito di più perché la loro emozione la loro attenzione l'espressione che avevano nel rivedere questo questo che è una cosa loro che hanno scritto loro che insomma con cui su cui hanno lavorato è stata una cosa impagabile veramente e rivederlo adesso fa strano senza di loro peccato che poi sì speriamo di rivederla ovviamente anche con loro presto però qui non in casa intendevo qui quindi come ci siamo messi a lavorare no dal primo giorno abbiamo aperto questo tavolo di discussione dicendo ok di che cosa parliamo vogliamo parlare di carcere vogliamo parlare di realtà eh ma tu lavori con i più piccoli lavori quelli del minorile ok ma se io avessi un fratellino gli direi questa cosa però questo è un messaggio di sperato invece no dobbiamo aprire insomma ed è venuto fuori questo testo in cui raccontano una storia non so quanto è realistica ma sicuramente è carica di speranza in cui se avete notato nella prima strofa c'è diciamo la parabola discendente di questo ragazzo che può essere poi chiunque di loro no che si ritrova da una povertà dalla povertà al crimine e dal crimine al carcere nella seconda strofa però diciamo il cerchio si chiude c'è un messaggio di speranza in cui appunto questo ragazzo trova in se stesso una forza di superare determinati determinati ostacoli e si trova ad essere libera ad essere scarcerato quindi è un messaggio di monito nei confronti dei più piccoli che magari si avvicinano alla vita della strada però allo stesso tempo non è una canzone disperata no c'è un un messaggio finale che io trovo molto molto positivo e molto interessante Igor ti passo la palla grazie ma prima si parlava del carcere portato fuori dal carcere io penso che sia questa la cosa più importante da fare e che con strumenti come questo video questo lavoro e questo libro si può ottenere almeno in parte perché la società fuori dal carcere e il carcere sono due strutture assolutamente non comunicanti chi sta fuori in stragrande maggioranza non ha la minima idea di cosa succede dentro e dentro il carcere si struttura una piccola società che non ha nulla a che vedere con quello che sta fuori io che in carcere ci sono stato anche quando lo dicevamo prima non so dire esattamente quante volte certamente più di cento volte a fare delle visite nelle carceri piemontesi e valdostane e l'ho fatto proprio per cercare di entrare e portare fuori la realtà del carcere leggendo le pagine del libro di francesco mi ci ritrovo in modo emozionante e glielo dicevo a lui prima la cosa che mi ha colpito una delle cose che mi ha colpito è la sua descrizione della sensazione del dell'arrivo nella struttura dell'entrare e di che cosa si sente dentro il carcere perché quando si entra in carcere possono essere può essere quello di Torino può essere quello di Novara può essere quello di Aosta c'è una cosa che le accomuna tutte è l'odore ed è un odore misto tra umidità chiuso sudore che però diciamo è una somma che produce qualcosa di unico che quando entri ti rendi conto che non l'avevi ancora sentito ma che è l'odore del carcere i rumori del carcere sono unici chi sta fuori non li ha mai sentiti le chiusure adesso ci sono chiusure elettriche porte che si aprono elettricamente però comunque ci sono rumori forti che sbattono le urla sono sensazioni secondo me importanti da conoscere ma la cosa più importante da sapere del carcere è chi sta in carcere perché spesso uno dice l'uomo comune la donna comune dice beh se sta lì qualcosa avrà fatto io vi dico solo qualche dato della popolazione carceraria in questo momento in Italia un terzo quindi uno su tre è innocente per la nostra legge per la nostra costituzione la nostra legge la nostra costituzione dice che uno è colpevole quando viene dichiarato colpevole al terzo grado di giudizio un terzo dei carcerati italiani è in attesa di giudizio definitivo quindi innocente e una parte importante di quel terzo risulterà innocente alla fine del processo più o meno un terzo è lì per violazioni della legge sulla droga una legge che noi da radicali diciamo vedo che anche francesco d'accordo lo scrive nel libro che è antiproibizionista noi siamo antiproibizionisti è una legge di fatto criminogena crea criminalità non riduce la criminalità ma poi dentro il carcere ci sono cose assurde incredibili in piemonte prima erano a biella oggi sono ad alba ci sono gli internati non so chi di voi sa che cosa sono gli internati gli internati sono persone che hanno finito di scontare la loro pena quindi hanno terminato di pagare con la giustizia quello che dovevano pagare ma dato che continuano ad essere ritenute persone pericolose vengono dovrebbero essere tenute in casa e lavoro dovrebbe essergli costruito un percorso di vita non di reclusi ma mancando le strutture e vabbè li teniamo in carcere quindi questo è l'ergastolo bianco persone che hanno finito di scontare la loro pena e che sono in carcere una parte importantissima dei detenuti hanno gravi patologie psichiatriche che li hanno condotti magari a fare dei reati anche gravi ma il carcere li riporta nella società no lo dicevamo poco fa persone che hanno commesso un reato dieci anni fa e che sono rimaste fuori in attesa di giudizio alla fine di un percorso lunghissimo della giustizia vengono giudicati colpevoli in questi dieci anni hanno magari trovato una famiglia fatto dei figli costruito un percorso di vita si sono auto reinseriti nella società e beh la giustizia li prende li sbatte in galera magari per sei mesi magari per un anno sradicandoli dal loro reinserimento quindi interrogarsi su qual è la funzione del carcere è fondamentale e fare uscire il carcere e portarlo nella società con l'arte con la musica con le rappresentazioni teatrali spiegandolo nei libri e portare persone dentro il carcere per far conoscere qual è la realtà è un passaggio fondamentale altrimenti non ci renderemo mai conto e finisco che noi oggi trattiamo quelle persone come polvere sotto il tappeto quelle persone sono molto povere non hanno mezzi spesso sono cittadini immigrati sono ai margini della società e con francesco prima mi hanno detto una cosa che pur occupandomi del tema da molto tempo non ci avevo mai riflettuto perché la nostra costituzione parla di reinserimento sociale di riportare all'interno della società chi ha commesso un reato questa è la funzione del carcere giustamente francesco mi dice ma qua non si parla di reinserimento perché loro non sono mai stati inseriti gran parte di loro non sono mai stati inseriti nella società non hanno avuto gli strumenti i mezzi la fortuna che tanti di noi ha avuto e quindi non dobbiamo nemmeno parlare di reinserimento ma di fornire degli strumenti per riportarli all'interno dell'alveo della società ecco il carcere oggi sta fallendo totalmente malgrado dentro il carcere ci siano persone che lavorano in modo incredibile volontari assistenti sociali chi fa il medico e lo fa oltre le proprie competenze specifiche del proprio lavoro c'è pieno di gente che fa tantissimo dentro il carcere ma proprio la struttura del carcere ormai deve essere ripensata di quello che io penso e credo dobbiamo fare noi che stiamo fuori e che abbiamo conoscenza di che cosa c'è dentro quindi grazie francesco comprate il libro io me lo sono fatto dedicare a mia figlia la dedica è molto bella perché parla di libertà e la libertà chi ce l'ha è giusto che la conservi però dobbiamo anche pensare a chi oggi non ce l'ha più anche se ha commesso dei reati per costruirgli un percorso di reinserimento altrimenti abbiamo fallito tutti grazie dunque tornerei un secondo al progetto perché hai solo accennato come è stato entrare e mi piacerebbe che ci raccontassi come hai instaurato e come hai lavorato con questi detenuti per arrivare a far a far fare a loro questo questo video e questa canzone perché questo credo che sia molto interessante poi arriverei a tutto il lavoro che fai invece nelle carceri minorili perché ci dicevi prima che hai un progetto che ti piacerebbe portare a compimento appunto di mettere in connessione quelli che sono i detenuti adulti e i detenuti minori si metti tanta tanta carne a fuoco ok andiamo con ordine e come entrare in carcere in realtà l'impressione più forte non ce l'ho entrando in carcere ce l'ho uscendo dal carcere perché una volta che io entro e mi metto a lavorare con i ragazzi non è troppo differente da quando lo faccio in una scuola da quando lo faccio in una comunità da quando lo faccio in un'associazione il momento chiave per me è l'uscita perché quando esci dal carcere il blindo ti si chiude alle spalle la prima cosa che fai anche dopo tanti anni è un sospiro di sollievo fai perché il carcere è disegnato per essere brutto il carcere è brutto altrimenti non sarebbe un carcere altrimenti si chiamerebbe grand hotel carcere una punizione e poi subito dopo ti viene ti viene il magone a dire oddio io adesso vado vado in centro vi faccio la mia serata vado a le birre i ragazzi stanno lì dentro e in un certo senso la loro vita è più sospesa della mia e questa è una cosa dalla quale non è troppo difficile liberarsi no è una scimmietta che sempre qui un pochino un pochino ce l'hai quando fai questo lavoro per passare a cose più allegre come parlo con loro amici miei io a disposizione un mezzo che è straordinario che è il rap perché è straordinario per due motivi il primo è perché ai ragazzi non lo devo spiegare cioè io entro in un aula e gli dico ragazzi oggi faccio in un aula di un carcere o di una scuola è lo stesso in effetti e gli dico ragazzi oggi facciamo una strofa oggi facciamo quattro barri a testa oggi facciamo freestyle e loro sanno immediatamente di che cosa sto parlando non glielo devo spiegare non ho barriera all'ingresso quindi poi immaginate se io dovessi fare un laboratorio di musica rock in carcere dovrei portare dentro tutti gli strumenti attaccarli accordarli ci vuole qualcuno che sa cantare magari qualcuno che sa leggere la musica ecco con rap non è così tranne quando registravamo io alle vallette ero col mio computer portatile è una è una cassa bluetooth stop quella è l'attrezzatura di base che mi basta a fare tutto ma per fare rap amici miei se ci pensate bene non serve nemmeno saper leggere scrivere a volte mi capita di lavorare con dei ragazzi analfabeti che fanno rap come delle frecce perché quello che ti serve è un cervello e una bocca che ti funziona considerazione a margine ho conosciuto qualche mese fa questo ragazzo di 16 anni 17 ancora non compiuti il quale fa rap in tre lingue parla cinque lingue ed è analfabeta in tutte e cinque le lingue ora questo che cosa significa significa che questo ragazzo di sua un'intelligenza prodigiosa anche perché queste lingue potete immaginare le imparate per strada girando il bacino del mediterraneo però significa anche che quando questo ragazzo aveva 5 6 7 anni quando era un bambino nessuno si è seduto accanto a lui gli ha detto oggi impariamo a leggere scrivere è difficile 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 non vedere la nostra responsabilità sociale quando si parla dello specifico nel minorile per arrivare al terzo e ultimo punto della tua domanda e sono molto d'accordo con quello che diceva Igor prima l'articolo 27 benedetto e benemerito della nostra costituzione dice che la pena deve servire al reinserimento del detenuto ok ma che succede se il detenuto non è mai stato inserito non è mai stato educato come puoi parlare di reinserimento come puoi parlare di rieducazione ci sono ragazzi ai quali in carcere si è dovuto insegnare a lavarsi ragazzi che non si sapevano fare una doccia e in quel caso tra queste auguste mura mi posso permettere questa 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 riflessione anche il concetto stesso di colpa come funziona la colpa ci insegnavano a scuola presuppone una scelta e eva che sceglie di raccogliere la mela e mangiarsela io ho la scelta tra il buono e il cattivo scelgo il cattivo quindi ho la colpa di aver fatto la scelta sbagliata ok ma se io questa scelta non ce l'ho non so di avercela come funziona se non c'è colpa se non c'è colpevolezza non ci può essere nemmeno punibilità e da questo punto di vista le le cose sono molto più più complesse appunto di quello che ci sembrava quando quando le studiavamo a scuola no i ragazzi hanno fatto qualcosa certo che hanno fatto qualcosa ma se in tanti casi non in tutti ma in tanti casi e mia mamma spaccia mio papà è carcerato mio zio è mio zio è la di tante ma io ma che devo fare cioè la normalità la normalità diventa quella amici miei quanti ragazzi carcerati ci sono in italia secondo voi 100.000 50.000 quanti ci sono 4.000 meno quanti mille no meno meno di 500 amici miei in italia ci sono 15.000 ragazzi oggetto di provvedimento penale dei quali in carcere ce ne sono 300 400 quindi il 2 per cento 3 per cento seguitemi su quello che vi sto per dire tutto questo nasce da un da un ottimo ragionamento il nostro sistema per molti versi è considerato giustamente l'avanguardia il principio dice che dovunque sia possibile vanno privilegiati e le misure alternative alla detenzione no quindi ragazzi la messa alla prova i domiciliari la comunità tutto giusto e tutto ottimo ma tirando una somma quindi chi è sto 2 per cento chi sono questi 300 o 400 ragazzi che vanno in carcere sono i più colpevoli tra i colpevoli assolutamente no sono gli ultimi tra i colpevoli perché sono quelli che non hanno accesso alle misure alternative alla detenzione quindi quelli che non hanno una famiglia quelli che non hanno una casa quelli che non hanno i soldi per pagarsi un buon avvocato e quindi vanno davanti al giudice il giudice li stanga perché uno dei requisiti della messa alla prova il tentimento quindi se io faccio lo sbruffone davanti al giudice il giudice mi stanga chi non sa leggere scrivere chi non sa parlare bene all'italiano per la maggior parte sono ragazzi detenuti per reati contro il patrimonio amici miei è difficile guardare il carcere minorile e non vedere il classismo della società italiana al suo peggio con questa nota lega come dire ci stiamo dicendo che la società ha una responsabilità enorme rispetto a questa cosa perché non bisogna rieducarli se non li abbiamo mai educati cioè se non hanno mai avuto l'opportunità di essere educati no non solo li dimentichiamo dall'inizio li dimentichiamo quando sono arrivati in carcere li dimentichiamo però anche se sono gli ultimi vuol dire che li abbiamo dimenticati anche prima non ci abbiamo dato alternative non abbiamo dato futuro c'è la storia di questo ragazzo che è uno dei quali con i quali ho lavorato più a lungo questo ragazzo arriva in italia a 13 anni da solo con il barcone va a finire a dormire alla stazione e a fare quanto di peggio potete immaginare agli altri a se stesso comincia a fare i reati tra le altre cose arriva all'età dell'impunibilità dell'imputabilità e finisce in carcere la prima volta che dorme con un tetto sopra la testa in italia quel tetto è il tetto del carcere ok in carcere lo conosco io si mette a fare rap con ottimi risultati vince vince dei premi arriva la pandemia e visto che questo ragazzo aveva buona condotta viene mandato in comunità grosso passaggio positivo perché dal carcere con le sbarre finisce in comunità dove sei in campagna ci sono gli animaletti ci sono gli alberi ha il cellulare grosso passo avanti ebbene che cosa fa questo ragazzo scappa dalla comunità per farsi rimandare in carcere la psicologa del carcere disperata mi chiama italia chiusa pandemia lockdown la psicologa mi chiama disperata mi dice vieni a parlare con questo ragazzo io sfido il lockdown con tutti i permessi del caso e vado a trovarlo e lo trovo l'ha messo che poi un cristone di due metri però con l'aria mesta e gli faccio io disgraziato che hai fatto e lui mi risponde eh ma lì non mi facevano fare rap eh ma lì non c'erano i miei amici e ti ho scusa eravamo sempre in mezzo alle sbarre del carcere mi vuoi dire che stai meglio qua lui mi ha guardato e ha fatto così con le spalle ora amici miei domanda per voi ora che questo ragazzo esce che succede torna a dormire alla stazione a prostituirsi a fare lì che succede è finito un ragazzo a 15 anni a 16 anni 17 anni è finito perché se è finito tanto vale gli spariamo un colpo in testa gli risparmiamo la sofferenza se noi diciamo no non solo non è finito ma accidenti non è nemmeno iniziato tra virgolette allora è come dici tu allora la responsabilità è collettiva allora la responsabilità è sociale allora tante riflessioni che ci sembrano teoriche tanto teoriche non sono perché la filosofia sulla colpa sulla sulla redenzione sulla responsabilità non è più filosofia quando ha due occhi due gambe due braccia questa è mi sto regalando dei momenti di allegria stasera vedo sì beh la consapevolezza importante però no sul carcere minorile e hai fatto questo esempio io ne faccio un altro proprio specifico due mesi fa l'ultima volta che sono stato al ferrante a porti ho incontrato un ragazzino che era stato citato nelle cronache della cronaca di milano arrestato a milano perché compiva furti quindi rubava in continuazione veniva arrestato lui si dichiarava dichiarava di avere meno di 14 anni e quindi alla fine non veniva arrestato all'ennesimo furto un giudice ha detto vabbè basta lo arrestiamo l'hanno arrestato mandato al ferrante a porti gli hanno fatto fare l'analisi ossea per verificare l'età e il risultato è 13 anni quindi diciamo almeno rispetto all'età non mentiva lui aveva 13 anni era al carcere ferrante a porti anche lui aveva raramente visto un tetto sotto cui dormire e parlandogli mi diceva che lui appena sarebbe uscito sarebbe tornato a rubare lo diceva come come diceva francesco adesso perché è la sua vita che cosa non c'è altro secondo lui non c'è altro e quando uscirà tornerà a rubare il fatto è questo è proprio questo cioè noi non riusciamo a fornire degli strumenti che possano invertire ciò che sembra inevitabile per quel ragazzino come tanti altri e il carcere rischia di essere un aggravante tenendo conto che non so se francesco l'ha già detto ma un carcere minorile non ha nulla da paragonare rispetto a un carcere per adulti è immensamente migliore nel senso che ci sono molte più attività un numero di detenuti molto minore un numero di educatori per detenuto molto maggiore un numero di ore fuori dalle celle molto più grande quindi diciamo una situazione sicuramente non paragonabile il carcere lo russo e cotugno di torino come sa chi ci lavora a 1450 detenuti circa per una capienza di poco meno di 1100 e come dico spesso ha un numero di detenuti che è più alto di una parte importante dei comuni piemontesi tantissimi comuni piemontesi hanno meno di 1500 abitanti solo il carcere di torino ne ha 1500 1450 quindi pensate quali possono essere le dinamiche le attività in una situazione dove ci sono 20 25 30 lingue diverse che vengono parlate insomma è una città e invece il minorile a torino 25 30 persone ovviamente c'è una possibilità molto maggiore di lavorare però il rischio è che chi entra in carcere magari a 13 anni a 14 anni a 15 anni alla fine entra in contatto con criminali maggiori alla fine il rischio è che il carcere diventi una scuola di crimine più che una struttura di rieducazione e alla fine di tutti questi ragionamenti si casca sempre allo stesso punto allo stesso punto cioè corre riflettere su che senso ha il carcere non dico che debba essere abolito il carcere ma certamente oggi tenere reclusi quei 200 300 ragazzi rispetto a tutti gli altri o quei 55 mila detenuti in italia rispetto a tutti coloro quali compiono i crimini alla fine probabilmente non svolge in nessun modo la funzione per la quale il carcere è stato pensato e quindi magari occorre strutturare qualcosa di molto diverso ultimissima cosa sempre carcere ferrante a porti e problema che la nostra regione ha e dicevo prima tanti detenuti sono tossicodipendenti e quindi cercano un posto in comunità la regione piemonte è carente di posti in comunità quindi magari c'è un ragazzo che necessita di un posto in comunità ottiene la possibilità di andare in comunità non c'è il posto il carcere cerca un posto e lo trova magari in calabria cosa accade accade che un ragazzo che vive qui in piemonte che ha magari qualche parente quindi gli ultimi agganci con la società con la realtà fuori dal carcere qui in piemonte viene portato in calabria adesso dico in calabria per dire il posto più lontano vicino a casa di francesco in comunità e ovviamente abbiamo fatto un'azione negativa perché l'abbiamo sradicato dagli ultimi agganci che aveva con la società tutto questo accade e evidentemente è qualcosa da ripensare completamente purtroppo il cittadino medio invece pensa che il carcere appunto serva a mandare lì delinquenti che hanno compiuto crimini gravissimi e che bisogna buttare la chiave e molti politici dicono anche questa frase ovviamente il tentativo è invertire questa questo circolo vizioso che è costruito da un'informazione sbagliata però scusami Igor lo so che l'hai detto però tracciamola bene la lineetta tra carcere e carcere minorile perché se la questione del ruolo del carcere nella società è una questione filosofica di battute importante la questione del ruolo del carcere minorile nella società accidenti secondo me è meno controversa per come la vedo io nel senso che io non riesco a immaginare in che modo un ragazzino di 14 eppure se quello ce n'aveva veramente 14 e non 13 perché ognuno poi cresce a modo suo la cosa della misurazione delle ossa fa ridere ma anche se aveva 14 anni veramente quel ragazzino ma chiuderlo in carcere è la cosa migliore che possiamo fare una struttura residuale come il carcere minorile una struttura secondo me anacronistica come il carcere minorile secondo me tra 50 anni prenderemo questo libro in mano e diremo ma veramente nel 2023 noi chiudevamo i bambini di 14 anni dietro le sbarre ma veramente facevamo questa cosa nel 2023 anche perché ripeto come sappiamo tutti è una struttura residuale 300 ragazzi in tutta italia gestibilissimi dalle comunità gestibilissimi dalle misure alternative alla detenzione che costano uno sfracello non è non è quello troppo il mio punto ma veramente serve ancora questo questo carcere minorile la risposta la sappiamo la risposta è no la risposta è no e le parole abolizione del carcere minorile però io ancora non le sento pronunciare da da tanti specialmente no no c'è una persona c'è una senatrice che l'ha presentata di recente non è una cosa politica per permettetemelo di dire Ilaria Cucchi l'ha detto abolizione del carcere minorile comunque non era non era quello il mio punto sono tanti decenni che si sente parlare di superamento del carcere minorile ci stiamo arrivando il senso di questa istituzione secondo me è arrivato è arrivato al capolinea chiudere i ragazzini di 14 anni dietro dietro le sbarre è una cosa totalmente anacronistica possiamo fare meglio come società e quindi dobbiamo fare di meglio